E allora prima di tutto buona 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 primavera che sia davvero una gran primavera di rinascita allora sembra che lo abbiamo rifatto di nuovo siamo qui ancora una volta a chiedervi una mano perché stiamo incidendo il nostro nuovo album quinto album dei Tupamaros allora se tre anni fa fare senza paura dopo vent'anni di silenzio era una follia beh fare un disco nuovo in questo periodo nel 2024 con i negozi di dischi che chiudono è ancora forse ancora di più una follia ma io so benissimo che voi siete folli tanto quanto noi e quindi so di poter contare su di voi e quello che vi chiedo è andare su www.tupamaros.it scegliervi la ricompensa che preferite ce ne sono tantissime io non svelo nulla perché voglio che andiate sul sito e scopriate lì tutto quello che abbiamo preparato per voi e voglio che saliate a bordo l'ho detto 3000 volte insomma la cosa che mi rende più felice e più orgoglioso è di sentirmi probabilmente il più piccolo ma forse col cuore molto grande cantore di questa bellissima comunità che siete voi e quindi io ancora una volta mi rivolgo a voi dateci una mano dateci una mano a far uscire questo disco non ve ne pentirete è un disco strepitoso ho detto che non ve le dico le ricompense ma qualcosa ve lo voglio dire intanto c'è il vinile fin da subito non come per senza paura che abbiamo deciso la fine no no stavolta il vinile c'è da subito c'è una chicca meravigliosa che è il vecchio demo tape il primo demo tape non è cambiato niente col punto esclamativo che è stata la nostra primissima incisione e ne abbiamo trovato un bel numero di copie e quindi possiamo farvele avere e poi solo una vi voglio dire ci sarà una grandissima festa alla fine del crowdfunding il crowdfunding durerà tre mesi quindi dal 21 di marzo al 21 di giugno la settimana dopo il 29 giugno una mega festa con cena e concerto dei tupamaros quindi se non riusciremo a venire vicino a voi nella tournée di questo nuovo album sarete voi a venire da noi faremo una fantastica festa in cui consegneremo le ricompense in cui mangeremo insieme sarà una cena tipica gnocco tigelle pinzimoni e quant'altro insomma tipica delle nostre zone ma soprattutto ci sarà il concerto dei tupa speriamo anche con un sacco di ospiti è l'unica cosa che vi dico per tutto il resto andate a vedere su www.tupamaros.it e davvero io so di poter contare su di voi un bacio enorme un abbraccio e come dico sempre un abbraccio resistente e riconoscente da grillo ma da tutti i tupa e ci vediamo ci vediamo per strada un abbraccione vi aspetto su www.tupamaros.it il crowdfunding del nuovo album dei tupa aspetta soltanto voi un abbraccione e come dice Joe Strammer senza la gente non sei nessuno ecco io credo di avere questa grandissima fortuna di avere voi un bacio ulteriore e ci vediamo dai e grazie a tutti grazie a tutti